Come diceva Cossiga con gli sciancati di Valmy, e quindi come tale combattiamo una battaglia, una battaglia di libertà, essendo, ahimè, purtroppo, l'ultimo democraziano in campo. Per ammettere fuori combattimento il generale Pappalardo e i gili arancioni, non ci siete riusciti, vi è andata male. Ma del partito della follia creativa c'è il risvegliare le menti dormienti, o è portare un buonaparte piccolo borghese come... Il sacro romano impero cattolico chiede la pace nel mondo. Allora, fructum atme. Scusami, io ce li do. Durante la pandemia, l'identità di coloro...